Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Mister Cozza, la ripresa dopo la sosta di Pasqua. Ora, 5 partite da giocare come 5 finali, si gioca la permanenza in prima divisione. Sì, 5 partiti, 5 partiti importanti. Bisogna pensare a una partita alla volta. Inizieremo già a pensare alla partita di domenica, che è uno scontro diretto, uno spareggio contro il Prato. Dobbiamo cercare di portare a casa punti importanti. Ci stiamo preparando bene. La sosta ci ha aiutato moltissimo per capire gli errori che abbiamo fatto nelle ultime due settimane. Dobbiamo ripartire dalla partita di Nocera, che è quella dove ho visto il Catanzaro migliore. Ma il calcio è fatto di numeri. Mister, quanti punti in queste 5 partite per ottenere la promozione il prima possibile? Dobbiamo cercare di vincere 3 partite per essere tranquilli. Quindi l'obiettivo nostro è quello di fare 9 punti per essere tranquilli e raggiungere una salvezza tranquilla. Su che cosa concentrerà le sue attenzioni in questi giorni? Sappiamo che bisogna lavorare forse più sulla testa che sulle gambe e sugli schemi. Già abbiamo lavorato in settimana sia sulla testa che sulle gambe. Quindi ormai quelle fanno parte del passato. Dobbiamo pensare solo a portare, come ho già detto, punti importanti da Prato. Mister, lei ha spesso sempre parole di ologio nei confronti di chi andava in panchina e di chi va in tribù. Ora però gente come Carboni, Massini, Quadri, Papasidero potranno tornare utili anche per giocare? Tutti sono utili, nessuno è escluso. Già da domenica ci sarà anche qualche scelta diversa rispetto alle ultime partite, quindi sono convinto di scendere in campo a dare il massimo.